Ciao, io sono Salvo e benvenuti su questo nuovo video! Oggi video giveaway, ho pensato di fare un giveaway con tutte le cosine di Tiger, però le cosine della scuola. Ci saranno ben tre vincitori e adesso vi spiego un attimino le regole. La prima regola è che ovviamente dovete essere iscritti al canale e avere attivato la campanellina per ricevere la notifica di quando pubblicherò ogni video. La seconda regola è che dovete lasciare like a questo video. La terza regola è che vi dovete seguire su Instagram. Vi lascerò il link del mio Instagram sia nel commento qui sotto in questo video oppure anche nell'info box lo troverete. Questo perché poi in direct i vincitori mi dovranno inviare il loro indirizzo. La quarta regola è che se volete partecipare dovete scrivere sotto nei commenti hashtag partecipo. Mi raccomando vi chiedo solo di scrivere un commento con hashtag partecipo e non più di uno per agevolarvi. È una questione di correttezza e se me l'accorgo non prenderò in considerazione quella persona. Quinta regola e ultima, se volete e se potete condividete questo video oppure il mio canale su tutti i vostri social preferiti. Avete di tempo da oggi fino a lunedì 15 alle 15. Quindi lunedì 15 alle 15, scusate il gioco di parole, andrò a estrarre il vincitore con il classico programma che utilizzano tutti gli youtuber su internet. Quindi il programma sarà a decidere ovviamente i tre vincitori. Adesso insieme andremo a vedere i tre premi. Allora, per il terzo vincitore abbiamo questa casetta ovviamente di tire contenenti post-it. Questo tempera matite con gommina a forma di cioccolato e questa calcolatrice a forma di barretta cioccolato. Adesso andiamo a vedere meglio. Questa è una calcolatrice appunto a forma di barretta cioccolato che va col sole. Quindi è una calcolatrice che non si scaricherà mai e con questa ci fate veramente un figurone bellissimo a scuola. Poi abbiamo questa casetta che è una busta di latte piena di post-it che vabbè non vengono fuori ma ci sono tantissimi post-it al suo interno. E questo qua che è bellissimo ha un tempera matite, adesso ve lo apro. E da una parte abbiamo il tempera matite e da una parte abbiamo la gommina sempre che è a forma di pezzetto di cioccolato per cancellare. E questi sono i premi del terzo vincitore, tutti e tre. Poi per quanto riguarda il secondo vincitore abbiamo questi post-it a forma di arcobaleno. Ogni colore dell'arcobaleno sono dei post-it, dal più grande al più piccolo e questo qua è bellissimo, veramente bellissimo. Poi il classico porta nastro adesive di Tiger a forma di nuvoletta con tanto di scotch arcobaleno che tutti voi conoscete molto bene. E la classica gomma arcobaleno, guardate quanto è bella, molto molto grande e anche questa qua ci fate un figurino a scuola. E questi sono i premi del secondo vincitore. E per il primo vincitore abbiamo la cola calda con tanto di ricariche. Allora questa qui è un po' meno roba da scuola, è più per i fai da te. Ma ho pensato di regalare questo al primo vincitore perché in tanti commenti in passato ho letto che molti di voi non hanno la cola a caldo. Quindi spero che questa pistola, che è appunto per la cola a caldo con tanto di ricariche, arrivi a una persona che la cola a caldo purtroppo non ce l'ha. E quindi ovviamente ha la spina, quindi non è che la batteria funziona davvero. E spero vivamente che vada una persona appunto che le serva. Quindi questi sono tutti i premi del mio giveaway e spero che voi partecipiate lasciando un hashtag appunto con scritto partecipo. Che dirvi ancora? Spero che partecipiate, che seguirete tutte le regole. Mi raccomando siate corretti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!